... Un cordiale saluto, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV. Come di consueto al mattino in diretta alle 7 ci rivediamo, ci ritroviamo insieme per sfogliare i giornali, il Carlino e il Corriere Adriatico e dare un'occhiata a quelle che sono le notizie più importanti del giorno che come potete immaginare anche oggi molte di queste pagine saranno dedicate all'emergenza coronavirus. Allora buongiorno dicevo a tutti voi, buongiorno dalla zona gialla, dalla provincia di Pesurbino della quale vi stiamo parlando in tutta la regione Marche sul canale 17. Vediamo subito il santo, oggi la chiesa ricorda San Cunegonda ma ricorda anche Santiziano. Il sole è sorto alle 6.40, tramonterà alle 6 di oggi pomeriggio. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso con addensamenti più insistenti nelle zone interne. Avremo un graduale incremento della nuvolosità nel corso del pomeriggio di oggi. Anche le precipitazioni saranno sparse nelle zone interne nevose oltre 1200 metri, i fenomeni locali nelle altre zone più probabili nel pomeriggio. Le temperature sono in diminuzione. I venti che stanno soffiando in maniera pesante e potente in queste ore saranno moderati o forti da sud, soprattutto al mattino. Poi però andranno a diminuire nel corso del pomeriggio. Domani, vedete, il tempo ancora sarà perturbato. Avremo infatti precipitazioni, pioggia anche a carattere di rovescio in attenuazione verso la serata di domani. Mentre le nevicate saranno intorno ai 1000 metri. Per giovedì invece, giovedì 5 marzo, il cielo tornerà ad essere sereno o poco nuvoloso, anche se nel corso di giovedì pomeriggio la nuvolosità andrà ad aumentare. Non si escludono deboli ed isolati i fenomeni, però diciamo verso la serata di giovedì. Le temperature sono in diminuzione quelle della notte, di conseguenza avremo anche possibili locali gelate al primo mattino nei fondovalle dell'entroterra. Possibili condizioni di maltempo nella giornata di venerdì, secondo il bollettino della Protezione Civile delle Marche, con tempo instabile anche per la giornata di sabato. Ieri le Marche hanno registrato il loro primo decesso da coronavirus. È un anziano di 88 anni, è morto all'ospedale Santa Croce di Fano. Ci sono tanti contagi, il bilancio parla adesso di 38 positivi, ma è un bilancio provvisorio perché già nelle prime ore di questa mattina ci sarà il risultato di quei tamponi che ieri sera ancora erano da esaminare. Allora andiamo subito sul Corriere Adriatico. Il primo titolo d'apertura, se il virus continua così a chiudere tutte le scuole, è Ceriscioli, che lo ha detto ieri nel corso della conferenza stampa. Conferenza stampa che potrete trovare anche su YouTube e su Facebook, la nostra pagina di Occhio alla Notizia. Se dicevamo di questa vittima di 88 anni, giallo sul contagio, si chiama Bruno Longarini, la prima vittima del coronavirus nelle Marche, morto ieri a 88 anni a Santa Croce. L'uomo non ha mai avuto nessun contagio a rischio, nessun contatto più che contagio, forse c'è un refuso, nessun contatto a rischio. Medici di famiglia, già 7 persone in quarantena, mentre l'attenzione intorno al mondo sanitario si coagula, intorno agli ospedali, l'allarme arriva però adesso dai medici di base. Già 7 sono quelli nel Pesarese che sono finiti in quarantena e a Marche Nord parte la giostra dei reparti. Questa invece è la fotonotizia del resto del Carlino, coronavirus, la prima vittima, un 88enne di Fano, era stato ricoverato una settimana fa. E poi sotto invece il derby vis Fano dopo Pasqua, VL senza tifosi, lo sport si ferma oppure modifica un po' l'agenda rinviata il 15 aprile. Infatti la sfida di calcio, mentre il basket gioca, ma gioca a porte chiuse. Poi si parla di elezioni regionali, il PD, gli alleati sono uniti, vogliono un civico, mentre il PD ha scelto domenica il nome di Mangialardi. Entriamo nelle pagine interne. Un anziano muore al Santa Croce, il virus ha fatto la prima vittima, era ricoverato all'ospedale dal 24 gennaio e non avrebbe avuto nessun tipo di contatto. È un pensionato di Fanese, viveva nel quartiere di San Cristoforo. L'infezione l'ha colpito nella forma più aggressiva e gli effetti del Covid-19 associati poi all'età avanzata l'hanno portato alla morte nell'arco di una settimana. L'anziano è stato infatti ricoverato il 24 febbraio scorso nell'ospedale Santa Croce di Fano e manifestava sintomi tipici come febbre alta e difficoltà respiratorie. Non risulta che abbia avuto però contatti con persone provenienti dal nord d'Italia dove sono stati scoperti i primi focolai dell'infezione. E nemmeno che si sia spostato da Fano verso quelle regioni. Quest'uomo, Bruno Longarini, lascia la moglie, due figli e i nipoti. Andiamo sulla pagina del resto del Carlino. Anche qui naturalmente si parla di questo primo decesso. Ceriscioli ha parlato di patologie pregresse, riferendosi a questa vittima, questa prima vittima, anche se in generale Longarini viene descritto da chi lo conosceva come persona in gamba che dimostrava meno della sua età e che amava dedicarsi alla cura del giardino. Era il suocero dell'ex consigliere comunale del Partito Democratico Enrico Fumante. Una gran brava persona, ha commentato il vice sindaco Cristian Fanesi. Sono vicino alla famiglia e soprattutto ad Enrico che oltre ad essere un compagno di partito è soprattutto un amico. Mentre ci sono, ne ha parlato anche Ceriscioli ieri appunto durante la conferenza stampa, riordino dei reparti, soprattutto negli ospedali di Marche Nord, ma non solo di Marche Nord. Più posti dunque nelle rianimazioni, i pazienti infetti salgono a 38 con altri 30 tamponi, quello che vi dicevo prima, da esaminare per casi sospetti. Via le camere isolate, letti affiancati nelle terapie intensive di Marche Nord e degli ospedali riuniti di Ancona. Il governatore dice che dobbiamo prepararci anche all'eventualità di un aumento di malati. La giunta stanzia intanto un milione di euro per gli ospedali e le mascherine verranno fornite dalla protezione civile. Si parla di presidi, insomma, vari e dei 400 mila tra mascherine e presidi vari. Poi se l'epidemia continua così, dice ancora il governatore Ceriscioli, dovrò, devono, non dovrò, devono chiudere tutte le scuole, non può più dire dovrò perché ormai tutto è passato al governo. Ceriscioli fa pressing, infatti sul governo continuerò a telefonare al ministro. Lui dice lo chiamo, lo chiamo, di solito risponde e quindi chiederà se dovessero aumentare i numeri di questo coronavirus nelle Marche e chiederà il governatore di chiudere di nuovo tutte le scuole delle Marche. Ieri il numero dei contagi è salito da 35 a 38 con un bilancio, come dicevamo, peraltro parziale, visto che in tarda serata c'erano ancora 30 tamponi da processare su casi sospetti. L'attività che abbiamo già fatto con le scuole chiuse per quattro giorni e le manifestazioni pubbliche sospese, è convinto il governatore, ci ha consentito di arginare questo contagio. Ma nessuno sa dirci quando finirà questa emergenza. Di sicuro non sarà una passeggiata. In Cina hanno instaurato il coprifuoco addirittura per contenerla. Sette dottori in quarantena, il titolo, il resto del Carlino, nella pagina di Pesero, allarme medici di famiglia, servono mascherine e guanti, esplode il problema dei sanitari che sono in isolamento, 10.000 persone scoperte, vanno inseriti tra quelli per cui sono necessarie le dotazioni di sicurezza. Mentre ieri è stato realizzato il nuovo reparto all'interno del Santa Croce, nuova terapia intensiva a Fano, scoppia però il caos, i parti, rivoluzione dunque nei reparti dell'ospedale cittadino per trovare soprattutto posti letto ai malati di coronavirus. Ieri, come dicevo, realizzato il nuovo reparto al Santa Croce, trasferito al San Salvatore il materno infantile, si partorirà solo a Pesero, almeno per tutto questo mese di marzo. I medici di base, dicevamo, sono in quarantena, 10.000 pazienti senza dottore, nel Pesarese sono 7, già quelli che non possono più operare. Il numero però è in crescita, il presidente dell'ordine dei medici pesarese Battistini dice che questi medici vanno protetti, mentre il pediatra si contatta soltanto al telefono. Sono state sospese infatti le visite ai bambini, se non su appuntamento. E poi c'è un richiamo, una breve, con l'articolo che riguarda le messe, le sante messe sospese, ma le chiese restano aperte, i vescovi della metropolia, quindi Pesero, Fano e Urbino, Tani, Trasarti e Coccia, hanno annunciato che dopo, a seguito di questa ordinanza del presidente del Consiglio, dal 1 di marzo fino all'8 di marzo saranno sospese le messe feriali e festive, 8 di marzo compreso. Inoltre i luoghi di culto rimangono aperti a condizioni di adottare misure adeguate per evitare assembramenti e calibrare dunque l'ordine di entrata. Per i funerali, invece, si suggerisce di limitarsi al rito dell'esequio nella forma breve, con parenti stretti e possibilmente si celebrino al cimitero. Quanto alle benedizioni pasquali, il consiglio è che siano fatte tenendo conto delle misure di sicurezza previste dall'ordinanza. Le attività pastorali saranno sospese fino alla durata dell'ordinanza stessa, quindi fino all'8. i Vescovi poi consigliano ai sacerdoti di mettere fuori dalle chiese l'avviso con tutti questi punti appena citati, tutte queste disposizioni. Andiamo avanti. Quarantena 233 sono chiusi in casa. Ceriscioli vara nuove misure. La Regione stanzia un milione di euro per incrementare le attività nelle strutture sanitarie. A Marche Nord sono stati predisposti spazi e posti letto dedicati, come abbiamo visto, a coloro che hanno il coronavirus. In arrivo nuove disposizioni di sicurezza anche per gli operatori. In azienda un dipendente ha contagiato, o meglio, un dipendente è risultato positivo al coronavirus e dunque i colleghi si sono messi tutti in isolamento, in questi casi si dice in isolamento volontario. Si tratta di 25 persone che però non hanno sintomi sospetti. Però quando si è a contatto con una persona che ufficialmente ha il coronavirus, chiaramente tutti quelli che gli sono stati vicini è bene che si mettano in quarantena e quindi stiano a casa senza uscire. Il mercato del martedì, oggi, il mercato nell'area del San Decencio a Pesaro si svolgerà regolarmente. Tante sono le polemiche attorno a questi mercati. Poi anche lì si fa fatica a dare un giudizio. Comunque il mercato questa mattina c'è. Il decreto del Presidente del Consiglio infatti non pone restrizioni ad attività di questo tipo. con la sola raccomandazione di mantenere sempre una distanza minima con le altre persone e seguire gli accorgimenti ben noti. La distanza minima, lo ricordiamo, è quella di un metro. Ma questo vale anche per chi stamattina andrà a prendersi un cappuccino al bar oppure va al ristorante, insomma, si cerca di stare piuttosto lontani. Poi, senza pensare di fare le persone sgarbate, evitiamo di darci la mano, evitiamo di abbracciarci, insomma, cerchiamo di mantenere, di toccare le cose il meno possibile e, insomma, se c'è poi la necessità e non si può fare a meno, chi può si dia una sfregatina, una pulita con la mucchina o qualcosa del genere. La distanza di sicurezza, titolo così, il Correo Adriatico si aggira col bevi e fuggi. A Pesaro i gestori di bar ed esercizi pubblici hanno notato, certamente, una minore affluenza di pubblico, di clienti, ordinazioni che si fanno soltanto ai tavolini, ma i clienti ci provano comunque con il caffè al banco. Perché anche questo fa parte dell'ordinanza. Cioè, chi è abituato a prendere, me compreso, il cappuccino stando in piedi, per questa settimana deve invece regolarsi diversamente. Cioè, deve mettersi a sedere sui tavolini. E poi, quando i tavolini sono pieni, gli altri devono stare fuori. Poi si dà il cambio, man mano che uno esce, l'altro entra. Questo succede anche, come vedremo tra poco, per esempio, alla posta o ieri è capitato anche in banca. Insomma, non si entra più come prima. Bisogna aspettare fuori, poi si entra piano piano. Ristoranti, invece, clienti a distanza, ma si lavora poco. I titolari tentano, in qualche modo, di adattarsi a queste nuove regole del decreto. E anche i bar non devono servire al tavolo. Facciamo tutto per andare avanti. E questo dice il resto del Carlino questa mattina. Accesso controllato nei locali, tutti seduti ai tavoli, ad almeno un metro da quello vicino. Proviamo ad adeguarci, ma il problema è che qui c'è meno gente, c'è meno movimento. Gli studenti pesaresi non vengano a scuola. Ieri ne abbiamo parlato, c'era una persona che chiedeva che cosa devono fare i nostri studenti, devono andare se vanno a scuola per dire all'alberghiero a Senigallia. Però risiedono nella zona cosiddetta gialla. Chiaramente possono andarci senza nessun problema. Però vedete cosa succede? Poi succede quello che è successo a Città di Castello, dove è stato pubblicato un avviso sul sito dell'Istituto Franchetti Salviani di Città di Castello, nel quale c'è scritto se venite da Pesaro statevene a casa, in sostanza. Non venite a scuola. L'avviso è della dirigente scolastica, che è pubblicato, come dicevo, nel sito di un istituto tecnico, idem per i ragazzi Emiliano Romagnoli. Un po' per non sentirsi anche degli appestati, degli utori, parliamoci in maniera molto spicciola e chiara. Poi è normale che, voglio dire, voi possiate andarci perché nessuno ve lo può vietare. Un grave errore è quello della collega, dice il Preside Rossini. I ragazzi non possono passare, come dicevo appunto, da appestati. Il pullman che da Apecchio viaggiava verso l'Umbria era vistosamente vuoto. Mentre la terza media di Monteporzio ha un prof contagiato e praticamente tutta la classe adesso si trova in quarantena. Il sindaco Breccia dice se è creata un po' di agitazione, chiuso comunque l'istituto comprensivo di Montefelcino. Tutti fuori dalle poste per paura del contagio, ma più che per paura per disposizione, perché per evitare assembramenti anche le poste devono adeguarsi e di conseguenza devono far entrare un po' alla volta. Utenti tenuti all'esterno del salone con il numerino in mano e chiamati via via. Qualche protesta, diversi impiegati lavorano con la mascherina. Uno dice mi sono dimenticato a casa il metro per misurare gli spazi e ora come si fa? Ovviamente sono tutte battute per sdramatizzare un po'. Il problema però dicono è solo spostato perché invece che dentro l'edificio la gente si accalca fuori e il pericolo comunque c'è lo stesso, si ripropone. Mentre chiudiamo la pagina del coronavirus, andiamo a vedere le altre pagine velocemente e questa è la fotografia che riguarda l'incontro che c'è stato ieri nel comune di Pesaro tra il nuovo questore, Michele Todisco, con il sindaco di Pesaro, appunto Matteo Ricci. Il nuovo questore della provincia di Pesaro e Urbino si è insediato da pochi giorni attivamente in servizio e ha già iniziato le sue prime visite ufficiali alle massime autorità e rappresentanti locali tra i primi confronti, quello appunto con il sindaco Ricci. Poi danni dei cinghiali. Siamo sulla pagina di Vallefoglia. Il presidente dell'ATC Malavolta replica i vertici della Col di Retti sulle richieste inviate in procura. L'associazione non si è mai presentata alle riunioni del comitato qualcun altro deve dimettersi. Quindi sui danni e cinghiali si va avanti. Anche qui oggi si ricorda la scomparsa di Don Zenaldo, storico parroco di Apsella. Il sacerdote avrebbe compiuto oggi 90 anni. Domani si terranno invece i funerali. Il rosario invece è previsto questa sera alle ore 20 nell'abbazia di San Tommaso in Foglia. Mentre strade, questa è una buona notizia perché sappiamo tutti come sono messe le strade provinciali per lo vero qui in provincia di Pesaro. Ebbene, lo Stato in 5 anni darà alla provincia di Pesaro Urbino 8 milioni e mezzo di euro. Da suddividere appunto in questi 5 anni il presidente Paolini ha detto ora stabiliremo quelle che sono le priorità perché ci sono strade chiaramente disastrate che necessitano di una cura urgentissima altre magari un po' meno ma comunque 8 milioni e mezzo non sono un'esagerazione però insomma è una cifra importante. Consideriamo però che tutte le marche riceveranno in questi anni 36 milioni di euro quindi 8 milioni e mezzo per la provincia di Pesaro Urbino. Dalla cronaca di Fano del Corriere Adriatico Villa confiscata a Rosato il Comune in Cassazione dopo la decisione della Corte di Appello che ha sovvertito la sentenza del GIP di Pesaro oneri di urbanizzazione per gli edifici religiosi il Comune concorre alle opere di restauro quest'anno la cifra globale disponibile è di quasi 100 mila euro 91 mila e 500 per l'esattezza oltre 15 mila euro al santuario di San Giovanni Bosco nel complesso del Beato Don Orione non so perché ancora è rimasto Beato lì ma comunque San Luigi Orione lo hanno canonizzato. La riconversione invece del Sant'Arcangelo ancora da esaminare le candidature il primo stralcio dei lavori riguarderà la fabbrica del Carnevale e anche l'Accademia del GES siamo sempre sulla pagina di Fano nella spesa 646 mila euro per l'acquisto delle installazioni firmate dall'architetto, dall'archistar Rota sotto invece come dire no all'Alzheimer e alle demenze interessante volumetto dei fratelli Pacassoni per combattere la malattia e dalla pagina 3 di Fano del Corriere Adriatico la Caritas a porte chiuse slittano teatro e consiglio per l'emergenza sanitaria rinviata pure l'assemblea annuale dell'Avis sono tanti gli appuntamenti che sono stati rinviati a causa di questo decreto che riguarda anche la nostra zona la nostra provincia, la zona gialla il centro salute di Via Rinaldu ci prosegue in privato oppure su appuntamento grande interesse per Fano Città dei Bambini i polacchi dopo gli incontri con l'associazione Amici Senza Frontiere da Fano invece maxi bolletta dietro fronte scuse Enel annulla la fattura da 1794 euro inviata ad una coppia di anziani di Lucrezia era questa, c'è stato un errore dicono quelli dell'Enel, scusate questo in buona sostanza l'esito di questa disavventura è capitata ad un'anziana battagliera coppia di cartocetto che nei giorni scorsi si era vista recapitare una bolletta dell'elettricità pazzesca con importi pari ai consumi di anni ed anni mentre si trattava soltanto degli ultimi due mesi insomma alla fine l'importante è che si siano dichiarati colpevoli e quindi hanno sbagliato Camminate tra l'incompiuta e lo spauracchio di gestore sono le due preoccupazioni con le quali convive la tranquilla comunità di circa 400 abitanti quelle di Camminate appunto ecco il nostro viaggio nel quartiere qui ci sono le nuove palazzine costruite alle porte del paese sotto Piero Polverari che cura le piante attorno al campo sportivo ancora siamo quasi in chiusura addio a Animaville il festival ai titoli di coda perché a Pergola dopo Mattia Priori anche Simone Massi si chiama fuori e dunque la Kermesse dedicata all'animazione poetica d'autore rischia di scomparire lo strappo dipende da differenze di vedute nello sviluppo di questa manifestazione Amarotta è invece un pensionato è stato investito sulla strada mentre attraversava la strada scusate è stato investito sulla statale mentre attraversava la strada l'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso per fortuna non è grave è un signore di 79 anni del posto che stava attraversando l'altezza di via 28 settembre ed è stato urtato da un Audi che vedete parcheggiata qui al lato della strada raccolta rifiuti Marotta Nord si adegua stesse regole anche nel quartiere per uniformarlo al resto del territorio e poi da Pesaro il cortile di Palazzo Mazzolari Mosca intitolato a Dario Foy Francarama il premio Nobel era legato alla città anche attraverso il Rossini Opera Festival di cui aveva firmato due regie non solo Craxi dunque prima c'è Pesaro chiede una strada in ricordo anche di Marco Pantani controllori invece degli autobus prepotenti sul bus l'esposto è di un utente alle forze dell'ordine i vertici di AMI dicono verificheremo Benedetti pronti a confrontarci con l'autore delle segnalazioni e questo qui racconta questo segnalatore sono stato testimone vittima del comportamento del tutto arbitrario e di prepotenza da parte di due operatori addetti al controllo che dopo aver individuato due trasgressori hanno bloccato l'autobus per oltre dieci minuti allo stado della stazione per procedere alla verbalizzazione alla richiesta di spiegazioni da parte mia e di altri passeggeri si è consumata da parte dei due controllori tutta la loro arroganza e poi spiega in quest'articolo che cosa è successo a Urbino invece guardate questo cartello qua dove c'è scritto ZTL attiva e poi ZTL closed che sta per chiuso in inglese ebbene questo cartello che sta al Varco 4 crea un po' di confusione disorientano questi display al Varco di Via Raffaello il dibattito si è spostato chiaramente sui social il comandante dei vigili dice fedeli alla circolare del ministero che dice che bisogna riportare così dice Fabio Mengucci le scritte sia in italiano che in inglese e fa fede alla segnalettica verticale dunque c'è questa confusione che si crea tra quando c'è scritto ZTL attiva e ZTL closed un po' di confusione la casa di Mengacci invece è un centro culturale Gambini risponde alle richieste di Londè e di altri consiglieri nel progetto coinvolgeremo anche l'università sempre da Urbino però dal Corriere Muta e Santa Caterina all'estero il comune faccia subito chiarezza celebrazioni rafferlesche Londè chiedere assicurazioni sulle voci che si rincorrono dalla Valle del Metauro le scuole in sicurezza una priorità assoluta il sindaco Bonci di Fossombrone e la partecipazione a sei bandi per reperire i fondi necessari no allo spreco di denaro per le stazioni scistiche Lupus in Fabula Italia Nostra Lave e Lack sono contrari al potenziamento quale potenziamento? quello di mettere le luci guardate questa bella fotografia di notte luci in pista per andare a sciare di notte danni all'erario e agli animali a Montenerone ambientalisti all'attacco sui 210 mila euro destinati dalla regione per l'impianto uno spreco di soldi pubblici secondo l'accusa gli ambientalisti si buttano denari per sfruttare per strutture che funzioneranno al massimo per pochi giorni allora qui verrebbe da dire pensate a quanti soldi buttiamo per andare su Marte sapendo che poi comunque non ci andrà nessuno chiudiamo col cartello ricevi le nostre notizie prima degli altri vi ricordo che per tutti gli aggiornamenti sul coronavirus e quant'altro abbiamo scelto Telegram come piattaforma per informarvi veramente in tempo reale quindi se non l'avete fatto iscrivetevi grazie per averci seguito ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia Grazie a tutti